Il mercato è un po' come tutta Italia, è determinato dall'abbassamento dei prezzi, quindi sta ritornando un po' a crescere. Ringraziamo proprio questo trend magari del ritornare a dei prezzi che sono più vicini a quelle che sono le potenzialità delle famiglie che del posto possono acquistare. Questa è stata un po' la difficoltà negli anni scorsi, si è allontanato un po' i prezzi da quelle che poi erano le reali potenzialità da parte dei poi eventuali acquidenti. Io credo che quello che è venuto fuori da questa convention è sicuramente un tema che è quello di finire di essere agenti immobiliari ma diventare consulenti, così da poter abbracciare sempre un numero di servizi più ampio per andare verso una clientela, verso un'utenza che vuole delle risposte un po' più approfondite e non solo la semplice intermediazione dell'immobile ma un po' che vada verso 365 gradi in tutto il mondo del real estate ad abbracciare tutte quelle che sono queste nuove esigenze che comunque la crisi ci ha dato, anche se io di crisi essendo partito giovane a fare un'attività del genere proprio in un momento in contrazione dove il mercato era in contrazione abbiamo dovuto comunque essere pronti a strutturarci per dare delle risposte proprio in un periodo di contrazione del mondo immobiliare. Quindi un po' questo forse ci ha aiutato, può darsi, sarà una forse delle grosse opportunità che ci danno questi momenti magari di difficoltà.